Anche quest'anno il comune di Fano ha confermato il fondo anticrisi, un fondo che ammonta a 64.000 euro ed è suddiviso in due tipologie di aree o di interventi. Il sostegno all'abitazione di residenza sia per chi ha contratti di locazione sia per chi ha un immobile in proprietà gravato da un mutuo ipotecario e l'altro il sostegno alla gestione domestica sia con i voucher per la spesa sia con il pagamento delle utenze domestiche cioè luce e gas. Chiaramente si rivolge il fondo anticrisi a chi in casa, nella propria famiglia, sia un componente, almeno un componente che è o disoccupato oppure per i lavoratori autonomi ha dovuto per effetto della crisi chiudere l'attività oppure ai lavoratori a tempo determinato. Poi vedremo se da qui alla fine dell'anno le esigenze e le richieste saranno superiori a quelle che sono appunto le disponibilità. Oggi il problema fondamentale diventa quello della casa e quindi l'emergenza abitativa sta diventando veramente un problema prioritario. Chiaramente ci sono dei limiti perché non possono accedere chi è residente a Fano ma chi ha un ISEE non superiore a 11.000 euro. Chiaramente questo è un criterio per cercare di andare incontro soprattutto alle famiglie che hanno davvero bisogno, quelle famiglie che sono in forte difficoltà. Poi ci sono anche dei massimali anche per il contributo. Per quello che riguarda il sostegno all'abitazione è 550 euro per quello che riguarda invece il pagamento delle bollette è 250 euro. L'avvertenza è che tutti coloro che sono interessati debbono chiedere appuntamento agli uffici dei servizi sociali nei giorni in cui sono aperti, quindi dal lunedì al venerdì e poi con l'ausilio anche del personale dei servizi sociali del Comune di Fano compilare l'apposita richiesta. La cosa è abbastanza facile però appunto c'è anche l'appoggio, il sostegno anche del personale che mettiamo a disposizione.